Vediamo come sta andando con signora Pia, Pia, Pia vi sente? Pia, Pia. Hanno parlato molto bene di questo venditismo, la parola di lavorare veramente eccezionale, Pia, per fortuna a dedicarlo a lungo e conta prestono. Ero a spostur, hai. Sviso, ja su senti. Simper, vinti? SON hei! Scusa, sai? Sannig a ti fauna, stai! Storna, ár borg! Persu, siou að diralega? Fara að kelpa múmi. Viensparegur! Ero að vera í startinni á daga in aðeinsett í viðstakinn. Stakim með kanta. Magli að kanta finta? Love is the main one. Sì.